ciao benvenuto a questo incontro delle riflessioni oggi ti parlerò dei nove fattori che secondo la ricercatrice americana kelly tarner sono accomunati a tutte quelle persone che sono guarite da un tumore maligno agli ultimi stati la tarner che cosa ha fatto in pratica ha incontrato più di 200 pazienti che avevano interrotto il loro percorso di cura canonico che addirittura avevano scelto di non seguirlo e che sono poi comunque guarite con una remissione totale da tumori maligni anche appunto all'ultimo stadio comunque in situazione estremamente avanzata la tarner una ricercatrice americana che appunto ha dato la sua tesi di dottorato ad harvard il suo phd appunto ponendosi questa domanda ovvero ma come che cosa accomuna quelle persone che di fatto sono guarite da una patologia così grave tipicamente ecco questo studio non vengono fatti molto però in un'ottica di psicologia positiva lei si è interrogata appunto intervistando queste persone oltre a ciò ha intervistato anche tantissimi terapeuti che appunto facilitano questi processi di guarigione e ha studiato un migliaio di cartelle cliniche di pazienti anch'esse appunto che sono poi guariti con una remissione totale ed appunto dando questo sua ricerca ha dato poi origine ad un libro che si chiama radical remission che è stato tradotto in più di 22 paesi in 22 lingue diverse proprio perché appunto estremamente interessante perché perché in pratica la tarner ha identificato così all'incirca una settantina 76 diverse azioni pratiche attitudini che queste persone hanno introdotto nella propria vita e che esse stesse hanno correlato con la loro guarigione di queste 76 ha fatto poi una scrematura andando identificare nove fattori specifici che tutte queste persone la maggior parte di esse hanno appunto introdotto nella propria vita e che secondo loro sono connesse poi con la loro guarigione miracolosa prima di elencarti questi nove fattori per i quali su ciascuno in realtà sarebbe necessario un approfondimento che qui oggi purtroppo non potremmo fare però ecco faccio delle premesse intanto prima la prima premessa è che chiaramente ritengo una grande fortuna che noi come umanità abbiamo la medicina allopatica quindi appunto quindi non suggerire mai di interrompere un percorso di cura canonico per seguire questi nove fattori la medicina come tutti i percorsi di conoscenza è un cammino cammino di conoscenza che si sviluppa nei secoli e oggi grazie alla medicina abbiamo già risolto tantissimi problemi che affliggono che affliggevano l'essere umano per cui ecco chiaramente ecco questo contributo non vuole in alcun modo suggerire di interrompere di non intraprendere percorsi di quella che a mio avviso sono una grande ricchezza dell'umanità e che veramente possono fare cioè che fanno completamente la differenza nella vita delle persone tuttavia ti elenco comunque questi nove fattori che a mio avviso sono interessanti e te l'elenco perché perché vedi perché perché prima di tutto perché non sono in contrasto ecco non sono in alcun modo in contrasto con un percorso di cura canonico per cui ecco in un'ottica magari addirittura anche preventiva secondo me sono fattori estremamente interessanti che ciascuno di noi dovrebbe prendere seriamente in considerazione proprio per magari addirittura evitare di trovarsi poi in situazioni difficili comunque al di là di queste riflessioni la tarnera appunto ha identificato questi nove fattori che ti elenco il primo è la dieta cioè queste questo migliaio di persone hanno la maggior parte di essi hanno modificato la propria dieta in particolare riducendo zuccheri togliendo la carne quindi andando più verso una dieta vegetariana o vegana hanno tolto ridotto l'alcol e quindi hanno cercato di modificare in maniera anche drastica la loro dieta andando ad orientarsi verso cibi più naturali e poco trattati per cui verdura per cui per cui frutta ecco questo è il primo elemento che hanno individuato il secondo individuato dalla tarner ha a che fare con la salute e in particolare con la presa di coscienza con la presa ad azione delle persone verso la propria salute quindi le persone appunto di questa questa corte individuata dalla tarner erano tutte persone che a un certo punto hanno iniziato a prendersi maggiormente la responsabilità della propria salute che vuol dire appunto cambiare per esempio alimentazione iniziare a fare sport iniziare ad occuparsi proprio dalla propria salute studiare approfondire ecco entrare proprio in un'ottica maggiormente salutistica il terzo elemento interessante è quello di iniziare a seguire il proprio intuito ho parlato di questo già in altri contributo che in altri contributi che ti invito ad andare ad ascoltare seguire riguardati proprio la mente intuitiva ovvero queste persone ha iniziato a dare sempre più attenzione al proprio intuito quello che sentivano a quello che ritenevano più nel profondo essere meglio per loro e quindi ad ascoltarsi no ad entrare maggiormente in connessione con se stessa l'uso di erbe e di integratore anche questo un altro elemento che è stato individuato per esempio i prebiotici oppure i probiotici comunque con integratori omega 3 o migratori che integratori che secondo peraltro già anche la ricerca scientifica sappiamo essere facilitanti proprio nel processo di benessere delle persone funzionamento intestinale per esempio in questo caso il fatto di rilasciare quelle che erano emozioni soppresse quindi emozioni non rielaborate emozioni del passato anche questo altro elemento estremamente interessante che peraltro la ricerca scientifica già sta mostrando essere correlato con una grande sofferenza per esempio pensiamo solamente agli studi dell'apnei dalla psico neuro endocrina immunologia oggi sappiamo quanto le emozioni negative che ci portiamo dietro magari da una vita impattano profondamente sul nostro funzionamento globale sul nostro funzionamento ormonale e immunitario l'altro elemento è cercare di vivere emozioni positive e qua va fatto un approfondimento approfondimento nel senso che chiaramente chi si trova a vivere una condizione così grave come quella di una malattia tumorale è naturalmente invaso da emozioni negative che nascono da tanti elementi banalmente le relazioni con le persone banalmente l'approccio verso la vita verso la morte verso se stessi verso i cambiamenti del proprio corpo insomma quindi si è invasi da tantissime emozioni negative per il quale spesso è necessario anche un sostegno supporto psicologico una psicoterapia però ecco la questione è a un certo punto per queste persone almeno che hanno raccontato la loro storia la questione è stata quella di dire sì questo io non lo posso cambiare cioè quello che io sto vivendo è un fatto però quello che magari posso cambiare è il mio modo di reagire ad esso e per cui cercare di impegnarmi nel vivere delle emozioni diverse degli stati d'animo diversi per cui cercare di provare compassione auto compassione per esempio in un'ottica positivo volermi bene prendermi cura di me stesso cercare di sentire maggiormente l'amore cercare di sviluppare sempre più possibile quanto più possibile emozioni positive altro frattore importante quello di cercare di sviluppare un maggior supporto sociale quindi la partecipazione gruppo di auto mutuo aiuto di gruppi di di sostegno perché no ma anche banalmente con gli amici con persone vicine cioè cercare sempre più di trovare un supporto sociale un sostegno sociale che sia di aiuto che permetta di avere delle buone relazioni solide che ci facciano sentire parte di una comunità di un tutto più ampio ecco questo è un altro elemento estremamente importante altri due elementi quello di queste persone hanno riferito di aver approfondito quella che era la componente spirituale della propria vita quindi quella componente spirituale dell'esistenza ecco questo è un altro elemento estremamente importante anche di questo già parlato nel mio sito scritto nel sito comunque trovi anche contenuti online su youtube oppure in spotify proprio come la spiritualità possa essere un elemento importante nella vita delle persone con queste persone hanno riferito di avere approfondito questa dimensione spirituale più profonda legata al senso al significato della vita e arriviamo così al nono fattore che riguarda lo scopo della vita queste persone hanno trovato un nuovo scopo uno scopo importante della vita una buona ragione per vivere anche questo mio avviso un elemento estremamente importante ne ho parlato in altri contributi per i quali che ti rimando perché ti invito ad andare a cercare per esempio pensa all'ikigai questa bella visione che che ci hanno regalato i cittadini di okinawa ecco questi sono i nove fattori perché condivido con te oggi questa riflessione queste riflessioni su questo ispirata da questo libro della tarno perché vedi io chiaramente mi auguro che tu non stia vivendo una condizione di patologia così grave come quella raccontata appunto da queste persone se così deve essere mi auguro ecco che questi fattori possono esserti di aiuto e che veramente tu possa proseguire nel tuo percorso di vita riuscendo veramente a far fronte a questa difficile situazione dell'esistenza ma se semplicemente ecco se qui sta ascoltando questo video perché curiosito un po da questi da questi temi ecco quello che ti posso dire è che secondo me in un'ottica preventiva in generale nella vita noi tutti dovremmo prendere sul serio questi fattori questi elementi della nostra vita non a caso spesso ne parlo non a caso oggi la ricerca scientifica si sta spostando sempre più in questa direzione perché vedi benché ancora il cammino sia lungo ancora ci siano tante conoscenze che devono essere sviluppate però si intravede sempre più una via che connette profondamente il corpo e la mente le nostre emozioni anche una dimensione spirituale più alta allora ecco riuscire a renderci conto nella nostra vita quotidiana di quanto introdurre attività del genere ci possa essere di aiuto per stare bene magari non potremmo prevenire tutte le malattie perché il corpo è una bolla di sapone noi siamo delle bolle di sapone però ecco possiamo vivere vite migliori vite più intense vite di maggior valore e allora ecco introdurre pratica attività come questa a mio avviso può essere estremamente di aiuto proprio per dare maggior valore alla vita maggiore pace serenità la nostra esistenza e chissà magari davvero per riuscire anche a guarire sempre più da patologie che possiamo incontrare nella nostra esistenza ecco se questo questo contributo ti è utile ti è stato utile ti invito a raccontare ti invito a raccontarlo nei commenti o se hai avuto esperienze analoghe di certo ti invito a raccontare anche questo perché di certo potrà essere di aiuto per altre persone che che potranno ascoltare e leggere quanto magari ecco aver introdotto pratiche del genere possa essere stato di aiuto a tanti a presto